Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci è convinta che l'abbia tradita, la verità è che continua a imperversare sui social il drama Francesco Chiofalo Drusilla Gucci. Nelle ultime settimane la coppia, dopo la crisi confermata dall'ex protagonista di Temptation Island, non ha fatto altro che mandarsi messaggi su Instagram. Nelle ultime ore l'inticchio però ha voluto chiarire una questione a lui tanto cara. Quella di non aver mai tradito la sua donna. In merito alla paparazzata con l'ex pupa Maria Laura De Vittis, che ha mandato su tutte le furie la Gucci. Francesco Chiofalo ha poi spiegato i motivi per cui non ne vuole parlare sui social. L'ex volto della pupa è il secchione, reality show in cui ha partecipato insieme a Maria Laura. Ha confermato che le due si conoscevano ed erano anche in buoni rapporti. Grazie per tapare! Grazie a tutti.